All'undicesimo il primo gol, lungo lancio di Vignola per Rossi, Rossi è controllato da Danova, si libera di lui e di Galbiati e c'entra. Gran sinistro di Briaschi e 1 a 0. Quarantatresimo lungo lancio di Platini per Briaschi che viene atterrato in area da Galbiati, calcio di rigore. L'esecuzione fredda di Platini chiude la partita.